È possibile che i cittadini che vedono come si diffonde il contagio si facciano prendere dalla paura di vaccinarsi. Il 12% di rifiuto al vaccino, a parte che andranno a finire ultimi, ma vi deve essere la consapevolezza nella cittadinanza che il vaccino è l'unico vero strumento per creare a livello di comunità quella difesa di cui noi abbiamo bisogno. Così il presidente della regione toscana sulle rinunce alle vaccinazioni AstraZeneca a seguito della decisione dell'AIFA di bloccare in via cautelativa un lotto del Siero dopo alcune reazioni avverse sospette in Sicilia. Forniamo l'opportunità dei vaccini e arrivano le disdette. È una cosa incredibile. Io richiamo il senso di responsabilità di queste persone. Le agende per le vaccinazioni con AstraZeneca si erano riaperte nei giorni scorsi dopo l'arrivo di una nuova fornitura. In soli tre giorni le disdette hanno superato quota 4.000. Accanto a loro naturalmente però poi vi è quel quasi 90% della popolazione che non si fa prendere e che conseguentemente vaccinando se stessi fa un servizio a se stesso e agli altri. Il governatore infine nell'occasione ha fatto il punto anche sulla campagna vaccinale in Toscana. Siamo fra chiaramente quelli che vacciniamo di più. Non stanno in frigorifero i nostri vaccini. Ormai abbiamo superato stamattina la soglia dei 450.000 dosi di vaccino somministrate. E chiaro, più si alza questo muro e più limitiamo la diffusione del contagio. Il governo Draghi mi sembra abbia imboccato questa strada nel contrattare il più possibile vaccini a livello europeo con le imprese farmaceutiche internazionali e noi che siamo lo strumento operativo cerchiamo di applicare tutto questo garantendo la massima rapidità nella somministrazione del vaccino dal momento in cui ci viene dato.